Dopo l'esperimento pilota di un anno fa limitato dalla pandemia, si struttura e si consolida Apprendo e Imprendo, un progetto organizzato dalla Confindustria di Pesolo Urbino per portare i bambini di quarta e quinta elementare in gite virtuali alla scoperta di tante eccellenze aziendali del nostro territorio, dal settore dell'alimentare agli imballaggi, dalla meccanica alla moda. Insomma, non più soltanto inserimento dalla scuola al mondo del lavoro, ma un innovativo stimolo esperienziale ad una fascia infantile, prese per mano attraverso educatori e un team di videomaker alla scoperta di un mondo a loro sconosciuto. E per questo, non essendo un mondo per loro ancora conosciuto, si è fatta una modalità chiaramente diretta a loro per creare quella curiosità e cercare di trasmettere a loro che l'impresa non è quella che viene normalmente raccontata, ma è un qualcosa di innovativo che tocca tante attività e specializzazione. Pertanto questo può aiutare già a un bambino di quell'età a incuriosirsi e cercare di capire e apprendere di più il mondo del lavoro all'interno dell'impresa. La domanda chiave del progetto Apprendo e Imprendo è come puoi sognare qualcosa che non conosci? Una domanda che ha solleticato la curiosità dei bambini e altrettanta predisposizione delle aziende della provincia che si sono prestate volentieri al progetto Apprendosi alle scuole. Dalla Crainox alla Catria Confezioni, passando per Isopac Adriatica, Lisa Group e Cantiere Rossini, Luzzi SRL, Marche Multiservizi, Pedini, SDSRL, Semar, Stile Ricamo, Automotive e Vetrotec. L'anno scorso con tutte le problematiche del Covid abbiamo impostato il lavoro e tutto il lavoro è stato fatto in maniera eccezionale e quindi abbiamo visto un interesse incredibile da parte delle scuole e da parte soprattutto dei ragazzi. Ho partecipato io stesso a degli incontri e ho notato una proattività unica. Il video come strumento si presta benissimo all'età del ragazzo, quindi è uno strumento centratissimo. Loro sono molto stimolati, poi l'azienda Pluriverso ci ha aiutato tantissimo, Confindustria stessa, con i propri collaboratori hanno organizzato tutto veramente in maniera perfetta. Oggi stiamo cercando di raccogliere dei risultati, con delle adesioni importanti. Le imprese sono state uniche perché questo non è un lavoro che terminerà qua, quindi ci saranno le future edizioni e quindi noi raccoglieremo più materiale possibile.